chi siamo un coro femminile con sede in colle ferro nato nel 1998 da una felice intuizione del maestro giuseppe pignatelli all'inizio eravamo solo un gruppo di otto coriste il maestro pignatelli allora ebbe l'idea di affiancare a questa formazione corale da camera un quartetto strumentale e nacque così allora chiamato ensemble vocale strumentale butterfly negli anni il gruppo corale è cresciuto qualitativamente e quantitativamente da otto diventammo venti coriste nella nostra storia poco più di ventennale abbiamo ottenuto concerti in tutta italia discutendo successi di pubblico e di critica tra il 2015 e il 2016 però abbiamo dovuto interrompere le nostre attività perché il maestro pignatelli improvvisamente è venuto a mancare seppur profondamente ferite nell'animo abbiamo deciso di continuare in sua memoria l'attività corale da lui iniziata ed oggi il nostro ensemble riconoscente porta il suo nome a lui dedichiamo con affetto un canto della tradizione abruzzese quale solenne tributo alla sua terra d'origine e a tempo stesso emblema della sua duplice formazione musicale colta e popolare ci siamo oggi la nostra presidente il nostro direttore alzamba due farfalline due farfalline due farfalline i nostri stupendi musicisti e infine la nostra solista Cosa facciamo? Svolgiamo una discreta attività concertistica portando nel territorio programmi musicali assai vari con repertori che spaziano nei generi classici a quelli moderni Svolgiamo una discreta attività concertistica portando nel territorio programmi musicali assai vari Svolgiamo una discreta attività concertistica portando nel territorio programmi musicali assai vari Svolgiamo una discreta attività concertistica portando nel territorio programmi musicali assai vari Svolgiamo una discreta attività concertistica portando nel territorio programmi musicali assai vari Svolgiamo una discreta attività concertistica portando nel territorio programmi assai vari Svolgiamo una discreta attività concertistica portando nel territorio programmi assai vari Svolgiamo una discreta attività concertistica portando nel territorio programmi assai vari Svolgiamo una discreta concertistica portando nel territorio programmi assai vari Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.